Da quando ho appreso stamattina della morte di Luigi necco nella mia testa come se lo vedessi commentare i risultati delle partite di calcio al 90esimo minuto. Questo è il ricordo più bello, io ero giovane, poi ho avuto il privilegio di conoscerlo in questi anni, un pensatore libero, un uomo molto intelligente, arcuto, ironico, appassionatissimo di Napoli, colto, un uomo libero, se ne va un pezzo del giornalismo napoletano ma che è andato molto oltre i confini di Napoli, soprattutto grazie alla RAI ma non solo.